Ciao a tutti. Qui su Segni in Onda ospitiamo anche la web radio ANG in radio, Mantov Ecosistema Culturale Europa. Quella che state per ascoltare è una puntata molto speciale. L'abbiamo realizzata, abbiamo intendo noi teen ambassadors, io e i ragazzi che collaborano consegni per cercare di capire come riuscire a portare più spettatori e adolescenti a teatro. Dicevo, è una puntata realizzata in collaborazione con Radio Bruno, musica direttamente dalla pancia della balena. E voi? Cosa ne pensate? Qual è il vostro brano musicale preferito in tema balena? Scrivetecelo in chat sulla piattaforma. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Mantov A. In collaborazione con Radio Bruno. Qui Alessia Redward di ANG in radio Mantov e hashtag ecosistema culturale Europa. La radio dell'agenzia giovani nazionale è di giovani per giovani. Oggi nella pancia della balena abbiamo trovato la musica e per questo abbiamo chiamato la radio partner di Segni, Radio Bruno. Al telefono abbiamo ospite una delle speaker, Giorgia Passuello, che ogni giorno è in diretta sul canale 256 del digital terrestre, del digitale, dalle 17 alle 19. Ciao Giorgia. Ciao, ciao ragazzi, ciao Alessia, ciao Eduard. Allora, grazie mille di questo invito che avete fatto a Radio Bruno, come avete detto voi, radio ufficiale. E poi sono proprio contenta perché parleremo di musica, di ambiente, di sostenibilità. E poi ci sono anche delle canzoni da ascoltare. Infatti volevamo appunto chiederti dei consigli su quali canzoni ci suggeriresti a tema ambiente, appunto. Ma secondo me le canzoni hanno, sai, un significato importante soprattutto nel testo, nella musica, che fanno tanto tanto riflettere. So che comunque insieme ci siamo ritrovati per cercare delle canzoni che avessero un bel significato da dare alle persone che ci stanno ascoltando. Io direi che, insomma, possiamo partire già con la prima. Che ne dite? Certo! Allora, molto bene. Di solito in radio noi disannunciamo subito la canzone. Vogliamo, insomma, rompere il ghiaccio così, ci penso io. Europe is lost di Kate Tempest. Quindi Alessia Edward, come mai la scelta di questa canzone e il significato nel testo? Allora, prima di tutto la scelta di questa canzone parte dalla scelta della cantante. La cantante Kate Tempest non nasce come cantante, nasce come poetessa e ha vinto un sacco di premi, appunto, per la sua poesia e poi ha deciso di cantare la sua poesia. Non cantare normalmente, ma proprio quasi leggere, recitare la sua poesia con una base sotto. La scelta di Europe is lost è una scelta non casuale, in quanto è una canzone che elenca molti dei problemi dell'Europa dei giorni d'oggi. Si parla di droga, di abuso di droga, appunto, si parla di guerra, di società, ma si parla anche dell'ambiente, che è uno dei più grandi problemi. È una visione abbastanza catastrofica, è una critica sociale quella di Kate Tempest. Io suggerisco alle persone che ci stanno ascoltando di ascoltare Kate Tempest, di leggere Kate Tempest, perché lascia molto pensare. Crive e canta in maniera molto veloce, perché alla fine è quasi un hip hop, però i testi sono molto, 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 molto belli, molto, molto importanti, sicuramente da affrontare. Non si conosce molto, però è molto importante. È un messaggio molto importante che fa riflettere. Ragazzi, alle persone che ci stanno ascoltando, un suggerimento, un consiglio per fare ancora di più nella nostra quotidianità, non so, la raccolta differenziata, provvedere di più all'ambiente. Un consiglio che potrei dare ai nostri ascoltatori è quello di ridurre il consumo di carne. Sembra una cavolata, però è una cosa fondamentale, in quanto gli allevamenti sensivi rappresentano una delle più grandi cause dell'inquinamento dell'aria. E quindi io consiglio appunto la riduzione della carne che fa bene sia alla salute, ma che fa bene anche all'ambiente, perché la produzione di carne, oltre alla produzione di tanto CO2, spreca tantissima, tantissima acqua. Quindi questo potrebbe essere un mio consiglio. Un'altra cosa che invece spreca tantissima acqua è l'industria della fast fashion e quindi qua va il mio consiglio, che è quello di ridurre appunto l'acquisto di vestiti, in particolare vestiti da negozi, da grandi catene, perché vale più la pena prendere meno cose, magari di più alta qualità, rispetto a tantissime cose che magari il prossimo anno ci avranno già stufato. Oppure sostenere delle piccole imprese, oppure comprare al mercato, o comprare usato, che costa anche poco e che sta tornando molto di moda, quindi può essere anche un metodo per stare al passo con la moda, però lo stesso tempo essendo sostenibili. È molto vero. Tra l'altro va tantissimo di moda il vintage, quindi un materiale già prodotto e diamo una nuova vita. A proposito di Era Vintage, è insomma una delle più gettonate sono gli anni 70 ed è proprio lì che andiamo con The 1975 per la seconda canzone scelta. Allora, questo gruppo inglese Alessia e Edward è stato scelto con questa canzone che si intitola anch'essa The 1975, quindi 1975. Spiegateci insomma di più in profondità questa scelta. Questa canzone appunto di The 1975 è una canzone che è un gruppo appunto inglese che per questa canzone ha coinvolto Greta Thunberg. Ed è proprio in questa canzone che cerca di risvegliare quelli che sono gli ascoltatori, ma anche di lanciare un messaggio di speranza. Ed è proprio qui in questa canzone, soprattutto nella parte che abbiamo appena sentito, che Greta Thunberg lancia un messaggio di speranza in cui dice che possiamo ancora rialzarci, possiamo ancora agire, che è tardi ma non è ancora troppo tardi. E quindi è stata scelta appunto per questo. La prima scelta musicale di Cape Ampest era una scelta sicuramente molto più catastrofica che si limitava alla critica, che comunque nello stesso momento si apre la visione. Questa invece è una scelta che oltre a criticare si lancia una speranza. Io consiglio agli ascoltatori di ascoltare questa canzone di The 1975. Le varie altre loro canzoni non parlano tutte di questo tema, non sono tutte una critica alla società, però questa canzone ha questo compito ed è abbastanza necessaria secondo me. Anche quest'altra canzone non è una vera e propria canzone, è una canzone parlata dove sentiamo la voce di Greta Thunberg. Diciamo che comunque Greta Thunberg ha smosso le coscienze di tutti noi, dalle più piccole, le più grandi generazioni e soprattutto è stata ascoltata in pochissimo tempo dai grandi della Terra, che sono poi coloro che nelle loro scelte possono veramente cambiare quello che sta succedendo in tutto il mondo. Uno dei punti fondamentali comunque del pensiero di Greta è anche l'eccessiva plastica che c'è nel nostro pianeta. Quindi da qui ci agganciamo anche alla successiva canzone che ci riporta negli anni 90 dei mitici Radiohead e qui ritorno anch'io giovane perché li adoravo in quel periodo con Fake Plastic Trees. A green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic canzone che è ancora da pelle d'oca. È ancora da pelle d'oca questa canzone ed è ancora a attuale. Quindi ottima scelta anche qui. Fake Plastic Trees è stata scelta perché ci ricordava un mondo fatto di plastica, un mondo tinto, un mondo che si sta piano piano allontanando dalla natura. Un essere umano che ogni giorno fa scelte non sostenibili e che si allontana dall'importante. Sceglie sempre giorno dopo giorno di scegliere quello che è il futile, quello che non è salvaguardare la natura. Appunto la scelta di Fake Plastic Trees è questa, è una scelta che invita l'ascoltatore a cercare di allontanarsi da quelli che sono i ritmi della società e di avvicinarsi verso delle scelte sostenibili, verso delle scelte che puntano a salvaguardare la natura, garantire una buona vita. Immagino Alessia che tu sia d'accordissimo con Edward. Sì assolutamente, infatti ci stiamo sempre di più allontanando e non dobbiamo dimenticare appunto di fare il nostro massimo e anche se sembra che la decisione ce l'abbiano le persone al potere o comunque i politici, tutti noi possiamo fare qualcosa, come abbiamo detto prima, magari provando a controllare la nostra alimentazione o le nostre spese, tutti possiamo fare la nostra parte e se facessimo tutti la nostra parte riusciremmo appunto a, se facciamo tutti del piccolo facciamo una grande cosa. Hai proprio ragione Alessia, tra l'altro la situazione che stiamo vivendo in tutto il mondo ci ha reso ancora più sensibili, ci ha fatto capire ancora di più l'importanza delle cose. Uno degli slogan più importanti di questi mesi, soprattutto del mese di marzo, era scritto ovunque, era questa frase, andrà tutto bene. L'ascoltiamo con Levante, dai! Mi muovo in imbarazzo nel caldo di dicembre, si scioglie il mondo molto pollice, non è verde, ti piace la natura ma non sai dare aiuti, ti va di fare un tuffo in mare ma poi ti rifiuti, tra i tuoi rifiuti, tu ti rifiuti, poi mi rifiuti, poi ci rifiuti. E noi di Radio Bruno abbiamo avuto un modo, lo scorso Sanremo, proprio di incontrare dal vivo Levante, una cantatrice incredibile, ha una capacità di scrittura, di scegliere le parole giuste, ficcanti, che facciano comunque riflettere l'ascoltatore oltre a cantare le sue meravigliose canzoni. Quindi l'abbiamo sentita con Andrà tutto bene. Ragazzi, com'è il vostro termometro? Come andrà? Come sta andando? Sta andando un po' male, nel senso sta diventando sempre più caldo, come dice lei infatti nel caldo di dicembre, perché ogni anno vediamo delle temperature che sono sempre da record, una frase che mi piace molto anche è ti piace la natura ma non sai dare aiuti, che riprende ciò che dicevamo prima, in cui tutti dicono che vorrebbero fare ma non fanno perché non sanno come. E questo è un grande problema perché se le persone ci tengono bisogna riuscire ad informarsi, bisogna saper cercare questa canzone se non è in italiano, abbiamo potuto comunque tutti capire esattamente ciò che ha detto e tutte le cose che dice sono perfette, nel senso sono tutte cose vere e che ci toccano a tutti, anche se certe persone hanno più sensibilità in questo discorso, comunque a questo tema, ci sono persone un po' più sensibili appunto, ci tocca a tutti alla fine, quindi bisogna informarsi e bisogna ricercare e bisogna fare del proprio meglio. È proprio così, Edward, volevi aggiungere qualcosa? Sì, assolutamente, la capacità di Levante di esprimere dei concetti secondo me è abbastanza rilevante, infatti io consiglio un po' a tutti di ascoltare le varie canzoni, questa canzone mi ha sempre colpito anche quando l'ho vista dal vivo perché ha proprio un impatto assurdo in quanto fa una critica non solo dal punto di vista ambientale ma critica anche moltissimi altri comportamenti che noi abbiamo e ci sono tantissime frasi di questa canzone che mi colpiscono e che mi riescono a sensibilizzare e mi fanno assolutamente pensare. Concordo con tutto quello che ha detto Alessia e nulla, invito gli ascoltatori ad ascoltare Levante e a pensare perché pensare è fondamentale. Lo sapete che siamo giunti praticamente al termine perché quando si sta bene, quando si parla tra persone che hanno comunque un obiettivo comune, che vogliono sensibilizzare gli ascoltatori su determinate tematiche che ci toccano proprio dal profondo, il tempo scorre velocemente. Volete aggiungere qualcosa addirittura d'arrivo per poi salutarci? Ditemi un po'. Io aggiungerei semplicemente che è stato un piacere e spero che gli ascoltatori abbiano apprezzato e insomma facciamo tutti del nostro meglio. Concordo con Alessia e facciamo davvero tutti del nostro meglio, proviamoci, ascoltiamo tanta musica che ci aiuta a pensare e pensiamo perché è fondamentale, soprattutto oggi, soprattutto in questo periodo storico in cui abbiamo tanto tempo per scoprire nuove cose e nulla. Allora Alessia, Eduard, con voi volevo comunque ricordare il festival, le date, insomma un'edizione che comunque ci sarà anche in questo 2020. Il festival, se volete lo dico io, sarà online dal 31 di ottobre, da sabato, quindi tra pochissimo e naturalmente vi ricordo anche i podcast La Voce della Balena che sono realizzati da Valentina De Poli che sta prestando la sua voce all'animale simbolo di Segni 2020 che ripercorre quindi i 15 anni di festival incontrando chi l'ha preceduta. Quindi naturalmente andate sul sito, ascoltate tutti i podcast. Alessia, Eduard, grazie mille delle vostre bellissime parole e soprattutto avete ragione, nel nostro piccolo possiamo fare veramente un piccolo passo per cambiare tutto quanto. Grazie mille veramente, anche da parte di tutta Radio Bruno, radio partner di questo evento. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. ANG in radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio Da Mantova è tutto Progetto finanziato dal bando ANG in radio Più di prima Di agenzia nazionale per i giovani Grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili E del programma europeo Erasmus Plus Di agenzia nazionale per i giovani